il palazzetto non intenevamo dello sport dove è biglietto è stata il palazzetto dello sport ero tuoi eddi ero due palazzetto dello sport eddi ero due palazzetto dello sport no non gestivano cinquantotto cinquanta sei cinquanta sei però non mi hai risposta a te ti piacciono il femma o a te piacciono l'uomo a me mi piacciono assai gli uomini ahhh eddi eddi e ti piacciono? e tu faci chi è un musulmano che fa? chi è un musulmano? non peggiamo il non è un musulmasto? non è un musulmasto? eduato tu stais sangue? stai stressato? sei proprio stressato? ma che è un marone ma come andare a bici qua o no? è che la nostra parte che volevo? che volevo? non mi chiede sei mi voglio un po' non mi chiede ma non mi chiedevi chi è qui? ma che ti fai a salvare? beh, ti beh ma poi ti metto questo scarpe ma sono gombi vedi 34 e cosa ti piace a fare? un po' e ti fai e tu guarda qui se 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 tu guarda qui cussi bravo cussi di me facciate facciate la mossa ferma ferma fammi la mossa 87 morsi stommi ma perché non hai fatti un tiro su cancello? ti metto 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 un tiro su cancello? Francesco mamma mamma edi ma che fai questo scarpe in mano? ti devi metterlo tu non ti metterlo io ma non hai stito? si è proprio una vera come stai? come stai? come stai? mi metti? mi metti? mi metti? edi edi mi hai fatto qualche uomo? non te sono no no io ti ho mai fatto la mano sei zitto sei zitto? ehi ehi ma tu capiti che fa Pino? chi è Pino? chi è Pino? chi è Pino? che cosa ha fatto la mano? no edi 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 no non è nemmeno voglio dormire ma è meca solito ma è solo tu rimane tu mi fai un bagno? è tutto neve è tutto neve è è è è